gandhi in in svarai dare a milioni di persone una conoscenza dell'inglese significa schiavizzarle vale la pena notare che accogliendo l'istruzione inglese abbiamo schiavizzato la nazione ipocrisia la tirannia eccetera sono aumentate gli indiani che conoscono l'inglese non hanno esitato ad imbrogliare e asseminare il terrore tra la gente siamo stati noi gli indiani che conoscono l'inglese ad aver schiavizzato l'india la maledizione del paese non ricadrà sugli inglesi ma su di noi non appena cessassimo di preoccuparci dei diplomi inglesi i governanti rizzerebbero subito le loro orecchie oltre a ricordare come due ottobre la giornata della non violenza e quindi gandhi nella sigla che avete appena ascoltato oggi traslimen ospita una riflessione un importante personaggio che fa capo alla destra italiana fondatore di cultura identità edoardo silo solabini in relazione a quello che è stato il terremoto delle ultime elezioni diciamo che la differenza più importante più appariscente tra sinistra e destra è che in realtà la sinistra ha dato sempre molto peso alla cultura mettendo in primo piano gli artisti gli intellettuali per quanto comunque erano obbligati come dire a fare un atto di fedeltà nei confronti della parte sinistra che col tempo è diventata sempre più sinistra nel senso di bieca ovviamente e che ha concluso la sua strada ormai da diversi decenni diciamo che si chiude negli anni 70 il percorso della sinistra senza poi aver minimamente recuperato terreno ma anzi lasciando spazio agli epigoni degli epigoni degli epigoni degli epigoni fino a smaterializzarsi completamente la destra non ha approfittato di questo sciogliersi come neve al sole di tutta la cultura parlo ovviamente della cultura con la c maiuscola cheppure era iniziata per certi versi con qualcosa di interessante per la destra cioè la cultura del genio sloci ma che invece non è stata colta dal mondo politico della destra quindi c'è stata e c'è a tutt'oggi una forte dicotomia tra cultura a destra e politica a destra vedremo oggi se la politica a destra avrà compreso la lezione e che saprà servirsi al meglio di quegli intellettuali artisti uomini di cultura più o meno misconosciuti per lo più anche alla stessa destra e che però certamente da decenni non frequentano più quella sinistra ormai diventata solo propaganda peraltro propaganda della dissoluzione come abbiamo visto anche nelle ultime interviste che abbiamo fatto rispetto alla questione della lingua italiana con massimo arcangeli e in effetti c'è un tutto un mondo da scoprire da parte della politica a destra di persone che pur si battono per valori di carattere fondamentale essenziale ma che finora non hanno trovato spazio anche perché molto spesso è proprio lo spazio nazionale che è mancato nel senso che anche a destra molto spesso non si è fatta rispettare l'italia proprio nel contesto europeo laddove certamente la nazione che ha maggior cultura di tutti gli altri paesi europei da rivendicare se non altro anche per il collegamento con l'italiano antico ossia con quel mondo latino che nessun'altra nazione europea può rivendicare in linea diretta eduardo è notevole il lavoro da fare diciamo sai allora io dopo 26 anni di carriera di attore regista nel 2018 ho fondato cultura identità che poi è un movimento culturale un'associazione che raggruppa intellettuali artisti giornalisti molti imprenditori proprio perché c'era bisogno di liberare un settore così importante strategico per il nostro paese come quello culturale proprio da questo qualunquismo militante che hai descritto tu prima dai da questi pseudo artisti che dicono che parlano di resistenza oggi cioè il settore culturale italiano che è un settore che produce 85 miliardi del nostro pil dando da lavorare a un milione e mezzo di persone poi senza considerare l'effetto moltiplicatore che ogni evento culturale ha su un ha su altri comparti dell'economia è è stato occupato in questi decenni da un'ideologia di una parte politica che ha indirizzato in realtà i programmi di un partito e ha usato appunto uno spettacolo una canzone un festival di serremo un festival di Venezia per dire per citare qualche cosa per fare politica e allora è arrivato il momento proprio di liberare nuove energie e di liberarci da questa cappa di conformismo e di qualunquismo ideologico che non ha prodotto nulla culturalmente perché questi signori che protestano poi come dire spesso sono influencer addirittura arrivano dal grande fratello a a a criticare queste scelte a parlare di resistenza quando resistenza di che cosa resistenza a se stessi siamo al solito discorso eh la sinistra ha impermiato questa campagna elettorale su eh la caccia al fascista in assenza di fascismo ma diciamo sull'odio dai su poi vogliamo chiamarla come ci pare la vuoi etichettare come fascismo ma insomma io ricordo Marco Pannella quando sdoganò non a caso del movimento sociale italiano eccetera con Almirante cioè questa cappa in realtà esiste da decenni e tra l'altro si basa anche su delle menzogne storiche dopodiché certamente dagli anni settanta in poi e quindi tutti anni ottanta anni novanta duemila duemila dieci sono in realtà trenta quarant'anni dove da punto di vista pratico teorico estetico etico eccetera in realtà questi artisti non hanno nulla da dire tant'è che ad esempio la la direttrice eh del del maxi che è il museo nazionale eh insisto sulla parola nazionale di arte contemporanea in Italia alla fine sono più gli artisti esteri che fa che non quelli nazionali cioè siamo arrivati a un vero e proprio capovolgimento no delle realtà come le direzioni a sovrintendenze direzioni posti importanti nel mondo dei beni culturali che sono stati grandi musei che sono stati dati a stranieri ma non perché uno ha qualche cosa contro gli stranieri però siamo il paese della bellezza e come se dobbiamo lanciare un universo simbolico non mettiamo non abbiamo secondo Franceschini noi delle persone preparate che possono saper valorizzare il nostro patrimonio artistico in realtà ci troviamo di fronte e non è da oggi ma da tutto il dopoguerra a un dato eh di stravolgimento della realtà e dei fatti che si ritrovano tutti peraltro eh in origine nel famoso diktat del 47 dove proprio di quella eh antifascismo di quella resistenza delle città che siano liberate da sole Napoli per citare una città mondo che a me sta molto a cuore in realtà di tutto questo gli anglo non hanno affatto tenuto conto e su questo si è innestato eh in realtà con l'accettazione io ricordo che poi si schierò apertamente contro famosissimo eh che è Benedetto Croce ma che poi ovviamente non ha avuto seguito e non è un caso che secondo me andrebbe anche collegato al fatto che da quel che ho visto almeno il 40 per cento dei giovani non è andata a votare quindi non c'è più diciamo una presa nei confronti anche del 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 settore giovanile quindi in questo caso sono sono devono essere dei consumatori per il sistema e basta esatto esatto beh se tu pensi alla critica che peraltro spesso è anche venuta da altri settori nei confronti di quest'Unione Europea beh eh se tu pensi nei nostri computer non abbiamo un sistema operativo che non sia acquericano non abbiamo la Google europea non abbiamo la Facebook europea non abbiamo l'Amazon europea e quindi da questo punto di vista siamo totalmente disarmati cioè non è che sono solo i giovani il problema è che non è stato dato spazio a una grandezza possibile reale nel senso che gli abitanti dell'Unione Europea sono quasi mezzo miliardo contro i 350 milioni degli statunitensi per dire cioè quello che tu stai dicendo travali che i confini italiani e va direttamente in tutta Europa no per questo asservimento che c'è che non lascia spazio ma io da artista sentivo questa esigenza perché io che sono sempre stato un artista libero che non mi sono mai voluto allineare al qualunquismo militante di molti colleghi che dicevano noi stiamo a sinistra perché sono tutti di sinistra allora io avevo questa esigenza perché c'era e c'è ancora ma sta sta cominciando a svanire perché diciamo che io con cultura identità ho aperto un barco in questo settore c'è una sorta di razzismo nei confronti e di chi non la pensa in quel modo è è un non è un luogo comune è vero che chi non la pensa e non si schiera nel mondo della cultura e dello spettacolo in Italia a sinistra non lo fanno lavorare lo boicottano lo diceva addirittura ma l'abbiamo scoperto dopo il motivo sicuramente conoscerai lucio fontana che è quello del famoso taglio nella tela e lui in una famosa intervista degli anni 60 diceva ma com'è possibile la mia ricerca è molto più avanzata rispetto a quella di pollock però lui vende a 100 200 milioni di lire sia 20 volte in più di me e lì aveva ragione però l'abbiamo saputo dopo perché il perché era nel congresso mondiale della libertà della cultura fatto dagli stati unitensi a berlino nel 1950 operativo fino a 67 e dove avevano messo insieme tutta la divisione per la guerra psicologica dell'esercito degli stati uniti nella guerra appunto che loro hanno fatto 43 45 addestrati dai servizi segreti inglesi che ovviamente avevano una competenza in termini imperiali di gran lunga superiore e la novità perché poi se uno non capisce come funziona questa cosa che oltre alla cia c'era anche c'era anche la società civile cioè nel senso che tu trovi dentro questo organismo che gli stati uniti chiudono nel 67 perché reputano che ormai la colonizzazione delle menti come loro la definiscono in europa è chiusa noi chiudiamo perché ormai il il soggetto opera secondo le nostre direttive ipotizzando di fare i propri interessi e così è stato no se vai a vedere anche la storia degli stati uniti c'è truman che viene portato da rockefeller a una mostra d'arte contemporanea americana che è l'arte astratta di quel periodo e davanti ai rotto ai pollock eccetera davanti ai pollock appunto dice ma vedi questa nuova arte americana e truman dice ah beh se questa è la nuova arte americana io sono un 88 e poi in effetti tutta l'arte astratta americana sbarca negli anni 60 in tutta italia ed ecco perché poi pollock a tutt'oggi vale sei volte un lucio fontana laddove lucio fontana è di gran lunga più qualitativo dal punto di ricerca e altro quindi diciamocela tutta cioè non è non è semplice perché noi abbiamo tutto un mercato eh finanziario che gestisce questa roba tant'è che negli ultimi venti trent'anni cioè decidono loro insomma chi è che deve essere l'artista e l'abbiamo visto con i media no perché tutto quello che si è scatenato nei confronti in particolare di fratelli d'italia eppure eh come hai visto eh tutti i media erano schierati assolutamente contro quindi per certi versi diciamo che però come vedi non smuove più nulla come lo star system americano quando si è schierato contro trump non ha smosso smuove certo dopo quando al governo appunto c'è ci sono i conservatori o c'è la destra e allora loro fanno un'attività proprio di boicottaggio eh sistematico certo sistematico e non vedono sono scesi in piazza ieri le del le femministe perché la meloni è andata a governare non è assolutamente contro l'aborto è una balla che si sono inventati loro e non spendono una parola per quello che succede alle donne in iran e per per lo scandalo di saman in italia si dovrebbero vergognare no ma infatti poi il problema è questo cioè come è possibile e qui ti faccio proprio una domanda che da detto culturale che ha delle responsabilità anche eh in una rivista che si occupa appunto del rapporto tra identità e cultura che vuol dire ovviamente anche creatività le mosse come dire da da fare nei prossimi mesi anche nel particolare in particolare per quanto riguarda la cultura saranno fondamentali perché come ricordavi tu c'è anche un problema di classe dirigente ovvio che se franceschini anziché dare il nome in italiano e quindi promuovere tra l'altro la lingua e la cultura italiana diretta discendente ovviamente dell'italiano antico alias il latino cioè anziché essere forte di questa tradizione di un dante che ancora oggi si legge a mille cento anni di distanza no rispetto a altre lingue che assolutamente se lo sognano no ma penso anche al francese o al tedesco tanto per non andare troppo lontano e ovviamente figuriamoci l'inglese ma insomma eh pensa in termini della netflix italiana no? eh certo hai parlato del 1950-1967 allora l'egemonia culturale poi nel nostro paese arriva poi da lì perché poi viene presa in mano dal partito comunista e da tutti i suoi da tutte le sue variazioni genetiche di questi decenni no? ma come dire il burlus rimane quello e per assenza dell'avversario politico perché il centrodestra dal dopoguerra in poi non si è mai voluto interessare a un settore così importante allora oggi c'è un'opportunità eh storica con questo cambiamento elettorale con questa non è un caso che noi abbiamo lanciato eh qualche giorno una settimana prima delle elezioni e alla sala Umberto di Roma il convegno liberiamo la cultura per un nuovo immaginario italiano perché oggi abbiamo bisogno di ricostruire di lanciare l'immaginario eh del nostro paese attraverso la cultura attraverso l'arte attraverso la bellezza del nostro paese del resto se non lo facciamo noi che siamo italiani chi vuoi che lo faccia allora anche perché c'è il rischio che poi il come dire l'arco politico come dire questa questa quest'arco temporale si chiuda anche presto perché è ovvio che se tu fai un'opera di riconversione delle menti perché quello che è avvenuto eh era esattamente quello che preconizzava addirittura Churchill con Roosevelt nel 43 e lui fronte agli studenti di Harvard in dialogo poi appunto con Roosevelt dice guardate che gli imperi per come noi li abbiamo conosciuti sono destinati a morire i nuovi imperi sono gli imperi della mente perché dominare la lingua degli altri popoli ci offre un bottino maggiore che non occupare gli territori o a servirne le persone in questo modo noi ovunque andremo nel mondo saremo come a casa nostra e non a caso poi ci mettono anche i servizi dietro con fondi incredibili perché non so se sai ma insomma per dire per dirne una ma insomma Chiara Monte prendevi i soldi dal dalla CIA eh Ignazio Silone prendevi i soldi dalla CIA tutto il il famoso festival dei due mondi di Spoleto è sempre stato finanziato dalla CIA e ce lo dice un altro oggi basta un altro autore inglese eh perché questa roba gli italiani non 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 e e te lo dice con le lettere no con i soldi gli italiani possono sapere anche che nel 92 sulla nave sul panfilo Britannia c'era anche Beppe Grillo per dire quindi come dire non è un funzionalista non a caso cioè come dire quindi quindi il mondo il mondo dei servizi il mondo che controlla la sovranità delle nazioni ormai come dire eh le nazioni stanno perdendo la propria sovranità il mondo globalista vuole fare questo vuole imporre come dire una dittatura di di alcune tecnocrazie anche nei confronti del popolo non è un caso che pure Biden proprio oggi è uscito a un'ansa che se ne è uscito con in un congresso di Dem dicendo eh eh state attenti che quello che è successo in Italia è molto pericoloso non è mai pericoloso quando la parola passa al popolo e a al voto democratico e purtroppo questa parte politica in Italia e nel mondo ha osteggiato in questi in questi anni una vera democrazia del popolo tant'è vero che non fa più gli interessi del popolo ma fa gli interessi di un'elite economica questo è un dato di fatto eh è un dato di fatto e anche gli artisti quindi che oggi scendono in piazza contro la Medoni sono utili idioti di un sistema eh che li vuole soltanto consumatori non sanno nemmeno perché vanno in piazza però al di là di quest'analisi bisogna anche comunque cominciare a proporre qualche una parte costruttiva per rilanciare questo settore che è la cosa che più mi interessa per questo che ho fondato cultura identità e noi già nel 2018 dal palco del teatro Manzoni quindi eravamo qualche mh settimana prima delle elezioni del 2018 avevamo lanciato un manifesto che oggi è ancora assolutamente eh attuale perché noi avevamo detto liberiamo la la cultura italiana dal regime di menzogne del pensiero unico e del politicamente corretto detassiamo la cultura sottraendola alla burocrazia tassatrice e oppressiva parlavamo di tax credit per lo spettacolo dal vivo di art bonus anche per i privati educhiamo la bellezza i nostri ragazzi insegniamo fin dalle scuole elementari fin dalle dall'asilo la storia dell'arte il nostro rinascimento facciamo eh crescere una classe dirigente che conosce profondamente la bellezza che calpestiamo eh con distrazione che il mondo ci invidia facciamo conoscere i nostri simboli culturali identitari e lanciamo un nuovo patrimonio eh un nuovo patrimonio eh immaginifico da questo punto di vista pensi che ci sia un ascolto cioè nel senso che poi non è stato dato molto molto spazio no all'ambito culturale in genere in alla destra però in questo caso no perché se non ci sarà questo se non se non ci sarà questo da 26 per cento si ritornerà al 6 per cento sembra un vero impianto culturale sai benissimo che poi non è soltanto culturale c'è la scuola e poi c'è la magistratura no le tre case matte del potere con cui si crea poi veramente un un sistema di potere e come si è creato in italia anche la scuola la scuola ad esempio diciamocela tutta e e anche subito per i piani eh i piani nazionali della ricerca eccetera che addirittura e quindi con soldi erogati dallo stato italiano che tu obblighi i ricercatori a redarre in inglese addirittura il proprio piano il proprio progetto è allucinante cioè quello che va fatto innanzitutto è una riconsiderazione in chiave identitaria tanto più tra l'altro ecco questa è un'altra cosa che secondo me andrebbe detta in tutta in tutte le fasi e dappertutto cioè c'è stato uno stravolgimento monopolistico proprio contro il mercato dal punto di vista linguistica e culturale quello che diceva cerce nel 43 beh l'unione europea l'ha reso eh fattivo perché oggi come oggi l'inglese dopo eh l'uscita della gran bretagna non è nemmeno più lingua comunitaria perché non c'è nessuno stato che ha rivendicato l'inglese come lingua propria pensa a proposito di democrazia come si potrebbe completamente ribaltare la scena dicendo guardate che effettivamente voi continuate addirittura alle nostre imprese ai nostri cittadini a dire di esprimere la loro opinione o fare i progetti in una lingua che non ha più alcun stato e tra l'altro c'è il paradosso opposto no perché eh usciti 65 milioni di inglesi beh eh sono entrati come terza lingua più parlata in Europa proprio l'italiano ma poi nelle scuole tu devi cioè come dire devi imporre ai ragazzi imporre insomma devi far conoscere ai ragazzi il rinascimento il barocco la nostra storia non è che devi cercare di portare la teoria gender o insegnare ai ragazzi bella ciao perché la musica ne vogliamo parlare cioè vuol dire se io ho parlato qualche tempo fa te lo accenno con il primo la prima viola del del teatro del dell'opera di Milano e proprio parlando di questi aspetti eh lui diceva io gli facevo presente ma scusami ma il famoso rap di cui tutti si riempono la bocca ormai da decenni ma non c'era già nella nella musica lirica famoso recitativo che c'è nella lirica ma non è quella roba lì quindi tu pensa noi ormai assorbiamo degli stilemi che vengono dal 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 punto di vista estraneo la nostra cultura laddove ce l'avremmo già ma scusami quello che tu dici è talmente vero è talmente vero per cui noi abbiamo smesso di innovare a partire proprio da una tradizione che è sempre stata innovativa dico se pensi al al mondo della ridica non c'è nessuno che non sappia l'italiano che non può no da questo punto di vista infatti noi per esempio abbiamo nel nel quindi anche la musica abbiamo fatto un incontro eh abbiamo eh nell'incontro della sala Umberto ha intervenuto a Beatrice Venezzi perché oggi non si valorizzano più nemmeno eh i grandi opere italiane o i grandi cantanti italiani bisogna ripartire anche da lì cioè una debattura siamo la patria dell'opera della lirica ma poi tu prima hai parlato di musicalità ma basta ascoltare l'annunzio cioè se tu ascolti la pioggia nel pineto o eh l'onda capisci bene che quella è la vera avanguardia linguistica che aveva poi eh le sue eh radici proprio nella tradizione invece ma un altro autore non a caso un altro autore ovviamente eh denigrato a più non posso laddove io voglio il rapporto proprio all'arte contemporanea io vorrei sapere chi da questo punto di vista è l'artista che addirittura eh si stampa i manifesti li butta da una cioè se tu pensi al anche in una chiave di di avanguardia storica beh ti rendi conto dell'eccezionalità no del personaggio ma dei fatti compiuti cioè quindi siamo veramente a alla follia senza contare poi il futurismo no si parla si è sempre parlato da quando io ero ragazzino di John Cage ma insomma questi si sono inventati l'intona rumori l'intona rumori cioè nel senso che veramente non conosciamo più chi siamo ecco ecco è con russolo che nasce la musica elettronica sai sul futurismo appunto tu con me eh spalanchi una porta cioè mia mia figlia io l'ho chiamata a luce in onore di luce Marinetti che era la terza figlia di Filipposo e dal dopoguerra in poi dall'università di Yale eh fece riscoprire il futurismo nel mondo eh Marinetti eh aveva salvato alcuni ebrei tra cui sembra Peggy Guggenheim e l'università di Yale per ringraziare Marinetti la famiglia Marinetti eh diede questa borsa di studio a luce parliamo degli anni sessanta e quindi luce dagli Stati Uniti ha di fatto di scoprire il futurismo che era stato considerato eh la merda perché era eh perché era legato al fascismo il secondo futurismo no? Quando il futurismo è l'unico movimento italiano internazionale del novecento che ha spalancato le porte a tutte le avanguardie e in Italia non c'è un museo permanente sul futurismo capisci no? Eh allora la grande cultura italiana è arrivata è arrivata proprio nel novecento nei primi quarant'anni del novecento. Noi abbiamo un passato eh che che è quanto più presente nel senso che di cose anche in chiave eh avanguardistica eh ce ne sono oggi però noi ci troviamo secondo me di fronte a un'altra esigenza completamente nuova cioè a un tipo di avanguardia che si faccia esercito in che senso? Nel senso che oggi c'è in realtà una cultura italiana e eh insisto anche europea ormai talmente assimilata al di fuori di se stessa dove comunque stanno vivendo nel mito e non più nella realtà ecco perché poi arrivano gli sconquassi perché poi le persone capiscono che sono di nuovo in una situazione aberrante no? Così come eh non si si capisce per quale motivo eh ci sono eh tutti dei fatti storici che vengono misconosciuti ti assicuro cioè ci sono eh che ne so tu vai a leggere eh autori inglesi e americani beh gli inglesi eh come come Stuart Leicock ricorda come la Gran Bretagna ha combattuto conflitti eh invaso esercitato un controllo su 171 stati su 193 membri delle Nazioni Unite ma questo chi lo dice? E lo dice il bello è che lo dice appunto un autore inglese un altro americano parla della nella storia degli Stati Uniti d'America e dice che invece loro hanno combattuto conflitti esercitato controllo e cioè su 190 su 193 stati membri delle Nazioni Unite cioè stiamo parlando quasi del del 98,4 per cento però stranamente noi continuiamo appunto cioè insomma c'è proprio un problema di verità con la B maiuscola no? Che va riaffermato certo assolutamente e su questo credo che insomma il lavoro è davvero molto senti guardo ho visto che che uscirà la rivista dentro il ministero del ministero della nuova gestione di centrodestra si debba si debba assolutamente creare un comitato per il nuovo immaginario italiano con delle direzioni generali che vadano eh ad approfondire alcuni temi che che per esempio io e chiudo ho lanciato con cultura identità la rete delle città identitarie sono più di cento comuni spesso sono borghi sotto i 15 mila abitanti dove noi arriviamo facciamo dei festival che raccontano l'identità culturale del territorio spesso ci sono piccoli borghi che hanno dei pezzi di arte incredibili che pochi conoscono hanno dato i natali a personaggi della storia italiana famosi in tutto il mondo o lì sono nate aziende del made in Italy che poi sono diventate appunto un marchio di riconoscibilità internazionale è da lì che bisogna ricominciare ecco magari rilanciamo rilanciamo invece poi mettere in un periodo di transizione anche made in Italy ma ad esempio lanciamo il marchio fatto in Italia e che tra l'altro ha una concezione anche ideale il fare no piuttosto che il prodotto cioè nel senso che anche l'errore è stato quello di pensare comunque nella lingua degli oppressori o dei conquistatori anche la produzione italiana cioè dove sta scritto che l'internazionalizzazione non si può fare in lingua e la cultura italiana ti faccio un solo esempio città del Vaticano all'italiano come lingua ufficiale ma se lo stato italiano facesse un accordo con città del Vaticano dove ad esempio ma scusate ma a me al popolo italiano lo dico proprio in chiave materialista ma a noi gli evangelici che cosa ci hanno dato? Allora oggi se non ci fosse stata Santa Madre Chiesa noi avremmo sia noi il 20-25% dei beni culturali del mondo e non il 65% allora in una chiave ecco perché dico poi c'è anche un modo in modo di far cadere le contraddizioni anche di questi di sinistra perché nel momento in cui tu riconosci un materialismo concreto beh io per quale motivo devo dare unicamente per forza a tutte le religioni che cosa mi hanno dato? Magari uno prende e mette una commissione che studia invece tutte le facilitazioni da fare appunto su chi ha dato in termini di bellezza e di grandezza architettonica culturale e artistica all'Italia e fa un accordo per cui tutte le ad esempio le parrocchie del mondo ci sia qualcuno che insegna lingua e cultura italiana cioè nessuno ha mai riflettuto che i cattolici nel mondo sono un miliardo e 313 milioni non so se ti rendi conto il mercato che cosa sarebbe insomma no quindi c'è un problema secondo me anche del del pensare in grande no che va rigestito in una chiave forse più vincente no perché molti io vengono a tradizione non violenta ma insomma tutti però pensano a Gandhi unicamente per le metodologie ma nessuno pensa che è stato il più grande nazionalista della storia moderna aver liberato 380 milioni di indiani allora tanti erano adesso sono quintuplicati ma insomma da un dominio che era lì e occupava con l'esercito non è da poco quindi magari se a destra si ripensa anche un modo incruento e non violento di gestire le cose beh io penso che la tutta la parte della cosiddetta sinistra per forza dovrà rivedere tutte le sue tesi anche nei confronti della destra perché poi il nazionalismo non esiste solo quello per forza che deve menare le mani eccetera c'è anche un altro che tra l'altro è stato vittorioso ma alla grande no ci sono i patrioti dell'arte non a caso io inizio sempre i convegni della fondazione città identitarie con un cantante che canta monna lisa di di van graziani ma cito il patriota vincenzo ferruggia che nel 1911 in bianchino della provincia di varese si nascose dentro una stanzetta del louvre a parigi per staccare la gioconda e per restituirla gli italiani certo lui non sapeva che leonardo regalata lui ai francesi però però fu un atto da patriota capito lui poi la derede dopo due anni alla galleria degli uffizi a firenze che invece di appenderla in italia la riconsegnarono in francia allora io cito sempre questo il perruggia fu un patriota dell'arte della cultura e quindi è dalle che dobbiamo ricominciare ma tra l'altro scoperto ultimamente non lo sapevo che anche riccardo cocciante ha fatto una bella canzone proprio sulla sulla cultura italiana vabbè te lo dico così e per il momento ti ringrazio spero che questo dialogo sia foriero anche di ulteriori sintonie e collaborazioni e in bocca al lupo per tutto grazie a te grazie mille e con questo è tutto anche per questa puntata di traslimen da giorgio cadmo pagano a risentirci gis reaudo 97104369587 ogni settimana scompaiono due lingue mentre la lingua inglese diventa sempre più forte aiutaci a difendere anche la tua lingua aiutaci a difendere la tua identità gli altri ti chiedono di salvare i corpi noi di salvare anche le menti donaci il tuo 5 per mille scrivi il nostro codice fiscale 97104369587 e firma l'apposito spazio nella tua dichiarazione dei redditi l'era ci mette il cuore tu mettici la firma